Come dire, abbiamo anche una familiarità, un'amicizia antica, per fare un'intervista così bisogna sedersi, fermarsi, prendersi un caffè, mettersi da qualche parte, insomma sono davvero all'ibita. Sicuramente c'è un accanimento eccessivo su questa partita per cercare nel PD motivi che sono fuori dal PD, perché insomma si capisce benissimo e mi dispiace per il collega Martelli che stimo e che è uno dei colleghi con il quale abbiamo una continuità anche di lavoro. In Senato cercare nel PD i motivi delle situazioni create in aula, certamente, ma causate soprattutto da M5S è un modo di essere un po' sciacalli che non ci aiuta. Ecco, perché lei la sua delusione nei confronti dei 5 Stelle invece la conferma, con tanto apprendiamo di messaggi, di garanzie che lei aveva avuto. Ho messaggi nel mio cellulare, ho mail, ho accordi limpidi fatti in commissione, ragazzi, ho accordi limpidi fatti in commissione dove noi abbiamo votato, votato insieme quel testo, votato, scritto, concordato, fatto emendamenti, aggiustato. Siamo alla quarta versione di un testo complicato, difficile, sicuramente riduttivo rispetto ai diritti che noi potevamo comunque ampliare e concedere e abbiamo fatto un lavoro, devo dire pedisseco, non mi viene un'altra parola, con i colleghi di SEL, con i colleghi di M5S, con chi ci stava, perché il governo non poteva fare un testo del genere, avendo noi una composizione di governo complicata anche con alleati di centro e alcuni di centro-destra. Si è scelta la via parlamentare per fare accordi, si è andata avanti su un accordo per due anni, dopodiché quell'accordo è saltato all'ultimo minuto su uno strumento regolamentare che poteva in questo caso essere accantonato semplicemente perché portava con sé un dato valoriale importante, salvare la legge dal Vietnam degli emendamenti pessimi dei colleghi che non vogliono la legge. Un conto è fare emendamenti nel merito, un conto è fare emendamenti sovversivi, minatori, che con un solo voto e anche segreto possono far decadere l'intero titolo 1. Il titolo 1 è Unioni Civili, allora io accetto emendamenti e dialogo con tutti coloro che vogliono cambiare il testo, ma se tu mi dici il testo non lo voglio, questa legge non ci vuole in questo paese, allora accetto piuttosto di farla anche il canguro. È su questo che la limpidezza dei colleghi di M5S, ai quali io riconosco una determinazione nel dire la democrazia, il regolamento, non si fanno strappi, non si fanno corsi in avanti come potrebbe essere il canguro, in questo caso davanti al contenuto, ai diritti, alla possibilità di arrivare con enorme fatica dopo due anni a un testo, beh per una volta si potevano mettere due piccole parentesi intorno al canguro e andare avanti.